La nostra azienda si occupa di efficientamento energetico, zootecnia, progettazione energetica e tutto quello che riguarda l'efficientamento energetico in genere. Siamo molto addentrati sul green e abbiamo scelto EnergyMed proprio per farci conoscere un pochettino da tutti, tant'è che stiamo avendo un ottimo riscontro. Siamo contenti della fiera, veramente contenti.